Ben ritrovati ad una nuova puntata della Voce delle Istituzioni, ospite in studio con noi quest'oggi è Stefano Cesa che è il sindaco di Borgo Valbelluna, ben ritrovato sindaco. Grazie Luisa, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori. Tanti argomenti di cui parlare sindaco, partiamo da quello che è stato il tema caldo che ci ha accompagnato per tanti mesi che continua comunque a lasciarci così con delle ansie, delle preoccupazioni anche se fortunatamente in maniera minore rispetto al passato però è importante sempre ribadiamo, anzi facciamo proprio l'appello nuovamente a tutti quanti, noi insomma di avere dei comportamenti rispettosi in linea con quelle che sono le regolamentazioni presenti nel momento, stiamo parlando ovviamente del coronavirus. Facciamo una fotografia sindaco per il comune di Borgo Valbelluna di quella che è stata la pandemia, gli effetti in particolar modo dal punto di vista sanitario per venire adesso alla realtà attuale. Certo, a Borgo Valbelluna la situazione è stata molto difficile, soprattutto noi abbiamo avuto l'apice della crisi da metà aprile a metà maggio e in quel periodo là avevamo due delle nostre tre strutture, delle case di riposo, centro servizi per anziani che erano state molto colpite da questo virus e nel contesto generale siamo arrivati ad avere degli apici con 150-200 persone contagiate nei momenti di maggior comune. Quindi è stata una situazione molto difficile che al di là di aver interrotto tutta l'ordinaria attività da parte dell'amministrazione e tutta quella che poteva essere la programmazione per il futuro, soprattutto per questo grande progetto che abbiamo del nuovo comune di Borgo Valbelluna e che questa introduzione oggi non ci voleva, è impegnato fortemente anche a dover riorganizzare tutta una serie di servizi, ma soprattutto a dover concentrare la nostra attenzione per risolvere delle emergenze di carattere sanitario che ricordiamoci sono state situazioni di crisi sanitarie all'interno di strutture sociosanitarie che non erano assolutamente adeguate per fronteggiare delle situazioni di questo genere. Ecco, diciamo le problematicità più significative si sono avute in quel di Tricchiano, no? Diciamo che nelle nostre tre strutture fortunatamente la struttura di Lentiai è stata esente, se non per un caso. La struttura di Mella ha avuto diversi casi, ma la gestione è stata fin dall'inizio in grado e capace di contenere gli effetti della diffusione del virus e di fronteggiare il fenomeno, mentre a Tricchiana si sono verificate tutta una serie di situazioni volute anche e legate anche a delle strutture difficili strutturali della struttura stessa, all'interno della quale è presente il centro servizi per anziano, che hanno in qualche modo reso difficile il contenimento della pandemia. E quindi a Tricchiana abbiamo avuto i maggior casi di contagi e purtroppo abbiamo avuto anche il maggior numero di decessi di persone con Covid, che ovviamente avevano anche tutta una serie di altre patologie, ma ovviamente quel Covid non ha sicuramente contribuito ad alleviare la loro situazione. Qual è la situazione attuale adesso, Sindaco? La situazione attuale da oltre un mese a questa parte è che nelle nostre strutture sono tutte e tre Covid free, per fortuna. Di questo dobbiamo fare un grande ringraziamento a tutto il personale, socio sanitario, infermieristico, a tutti gli operatori, a tutti coloro che a vario titolo collaboratori hanno contribuito in qualche modo a fronteggiare questa grande emergenza all'interno delle nostre strutture in una situazione sicuramente non facile, perché oltre ad avere i nostri ospiti in qualche modo contagiati, avevamo anche tante persone nostre dipendenti che erano in qualche modo costrette a restare a casa perché in qualche modo contagiate, magari asintomatiche, ma che dovevano in qualche modo rimanere a casa in quarantena. E quindi la situazione per chi ha operato è stata veramente, veramente molto difficile. Questo ci ha dato modo anche in qualche modo di rivedere in qualche modo la riorganizzazione in alcuni punti della nostra società, la Val Beluna Servizi, che ricordiamo è la nuova società che è nata dai primi mesi di quest'anno a seguito della fusione per incorporazione della Lentiai Servizi nella SP1 Servizi e che oltre a gestire i nostri centri di servizi per anziano gestisce la farmacia di Sant'Antonio di Tortal, gestisce i centri diurni e gestisce le mense per le scuole di Mella. Lei parlava prima, il Sindaco ha menzionato anche la casa di riposo Mione di Lentiai struttura che ha avuto importanti anche lavori e che ha chiuso una vicenda che si trascinava un po' da tempo. Sì, nella difficile situazione in cui ci siamo trovati in questi sei mesi e dove tutte le amministrazioni hanno dovuto in qualche modo fronteggiare questa crisi di carattere sanitario abbiamo per fortuna portato avanti anche alcune questioni tra cui abbiamo posto la parola finalmente fine al contenzioso che era presente tra l'istinto comune di Lentiai e l'azienda Feltrina dove abbiamo trovato una risoluzione dal punto di vista economico e abbiamo chiuso definitivamente questa partita che si trascinava ormai da diversi anni. Nel frattempo abbiamo anche concluso una serie di lavori che erano stati iniziati alla fine del 2019 con fondi messi a disposizione da questa amministrazione comunale e che hanno riguardato in qualche modo il restyling esterno della struttura e invito oggi tutti coloro che desiderano ad andare a fare un giro per vedere anche la riqualificazione non soltanto interna ma anche esterna della struttura stessa e io da tutte e tre le strutture riesco per fortuna ad avere dei feedback molto positive per quanto riguarda la gestione, per quanto riguarda i familiari degli ospiti che sono contenti della gestione, che sono contenti dei servizi che vengono erogati all'interno delle nostre strutture. Senta Sindaco, fra i vari temi ovviamente che riguardano quella che è stata l'emergenza sanitaria le varie sfaccettature, l'emergenza ha messo in luce anche la grande attività del mondo del volontariato locale che si era imboccato le maniche fin da subito per dare il proprio contributo. Straordinaria come sempre la sinergia e la disponibilità da parte di tutti i nostri volontari che si sono dati da fare in tutte le maniere per cercare di dare un supporto il più possibile all'amministrazione ma con l'amministrazione a tutta la popolazione residente nel nostro comune. Ricordo soltanto alcuni degli eventi, sicuramente ne dimentico alcuni ma questo vuole essere un grazie generalizzato a tutti i volontari che ci hanno dato una mano. La distribuzione prima di tutto delle mascherine fatta attraverso i volontari della protezione civile, la sanificazione delle strade fatta dalla protezione civile e le tante altre operazioni fatte dalla protezione civile. Poi nel frattempo abbiamo messo in piedi anche l'albo comunale del volontariato alla quale si sono iscritti persone che magari non volevano appartenere a una o l'altra associazione. Con l'auser di Lentiai abbiamo portato avanti un'iniziativa molto importante, la spesa a domicilio estesa a tutto il territorio comunale. Sempre l'auser di Lentiai ha attivato il telefono amico per parlare con delle persone che potevano essere sole, ma ricordo ad esempio la stampa dei compiti, la consegna dei compiti a domicilio, l'acquisto e la distribuzione di tablet, la distribuzione dei libri dalle nostre biblioteche di trichiane di Lentiai a domicilio e tante altre iniziative che hanno in qualche modo cercato di superire l'obbligatorietà di stare chiusi dentro casa, ma soprattutto di dare un servizio a quelle che sono le nostre persone più fragili, in particolare gli anziani e in particolare purtroppo i nostri ragazzi e i bambini di scuola che si sono trovati dal giorno all'altro improvvisamente con tutte le loro relazioni interrotte bruscamente. Certo, noi bellunesi siamo stati intaccati nel 2018 da quella che è stata la vicenda di Vaia, la tempesta che fin da subito ci ha sconvolti, ma che ha messo in luce anche proprio l'aspetto della solidarietà, dell'operosità delle varie persone e anche in questo caso la pandemia ancora una volta ha messo in luce anche questa buona volontà, questa grande dedizione al territorio. C'è stata anche una nuova app che il Comune ha introdotto, vero Silvio? Sì, proprio durante il periodo dell'emergenza abbiamo attivato, sempre per non interrompere tutto il nostro processo anche di innovazione e di digitalizzazione della macchina amministrativa, abbiamo introdotto l'app Municipium che invita tutti i cittadini a scaricarsi nel proprio smartphone o iPhone, la quale è stata importante durante l'emergenza per dare una serie di comunicazioni, è stata importante durante l'emergenza per chi lo desiderava fornire i voucher elettronici legati ai buoni spesa con il contributo da parte dello Stato e sarà importante anche in futuro perché il Comune intenderà utilizzare questo applicativo per erogare tutta una serie di contributi. Penso ad esempio il contributo dello Sfalcio Prati, una nuova iniziativa che abbiamo introdotto proprio quest'anno con il bilancio 2020 nella quale poi coloro che ne fanno domanda e coloro che ne hanno ovviamente diritto avranno accreditato attraverso questo applicativo Municipium un voucher, un buono, che potranno andare a spendersi all'interno delle attività commerciali del territorio del Comune di Borgo Valbelluna in maniera tale proprio da attivare questa economia circolare di cui se ne sente tanto parlare ma di cui noi cerchiamo di dare alcuni esempi pratici. Senta Sindaco, venendo ai giorni nostri, temi un po' più attuali, lasciamo da parte un attimo il Covid per parlare adesso ad esempio della nuova gestione del Parco Lotto. Sì, anche questo sicuramente oggetto di molte contestazioni sui social da parte di alcune persone ma tutto deve essere in qualche modo inquadrato all'interno di un lavoro che l'amministrazione sta facendo in maniera molto proficua e di questo desidero ringraziare tutti i miei collaboratori assessori e consiglieri comunali. In vista del bando definitivo era giusto in qualche modo avere un'esperienza di qualche mese per cercare di tarare poi quelli che sono i paletti del nuovo bando e in base a un precedente bando esplorativo per la ricerca di manifestazioni di interesse sulla gestione del Parco Lotto, a cui si sono in qualche modo rivolti due gestori. Per l'estate abbiamo fatto una trattativa privata con entrambi, uno dei quali ha partecipato che è la SD Academy di Sedico e per il periodo estivo sta gestendo gli impianti sportivi, ha riaperto anche il bar e quindi sta dando una gestione pur abbastanza nei limiti perché ovviamente non ha a disposizione un arco temporale necessario per fare tutta una serie di progettualità ma da qua a fine anno abbiamo questa associazione con Christian de Bollinaire che sta portando avanti un'importante attività e che servirà poi in qualche modo per tarare, ripeto, quelli che saranno i paletti del nuovo bando di gestione che sicuramente avrà una durata temporale molto più ampia e che consentirà sia la parte privata che prenderà in gestione sia la parte pubblica, in questo caso il Comune, di fare tutta una serie di investimenti a beneficio di quest'area qua. Ecco, nel pacchetto degli investimenti anche in vista del nuovo anno scolastico rientra tutto il capitolo della scuola, tutta l'attività della sicurezza sismica delle scuole, ci sono importanti i lavori in varie strutture del territorio. Il cantiere dell'edilizia scolastica è un cantiere veramente in continuo movimento e di questo ne abbiamo anche delle ripercussioni per quanto riguarda la popolazione scolastica con l'inizio del nuovo anno scolastico 2020-2021. Per fare un punto della situazione abbiamo la scuola Pascoli di Turchiana che è oggetto di un cantiere già avviato da un mese a sta parte con l'adeguamento sismico a seguito della messa in sicurezza statica che avevamo fatto lo scorso anno che purtroppo interesserà l'intero anno scolastico, valore complessivo da 1.200.000 euro e per questo motivo abbiamo provveduto a montare delle strutture mobili abitative dei container per alloggiare le 5 classi della scuola primaria a tempo pieno nei pressi della scuola Pascoli. Mentre per quanto riguarda le 5 classi della scuola primaria a tempo normale troveranno ancora sede all'interno della sede di Cavassico. Qui abbiamo il problema che non tutte le classi possono restare, trovano i limiti di contenimento all'interno delle missioni della scuola e quindi la classe più numerosa avrà un modulo abitativo esterno alla scuola di Cavassico. Non ci sono problemi per quanto riguarda le scuole medie di Tricchiana, non ci sono problemi per quanto riguarda la scuola materna di Sant'Antonio di Tortale di Tricchiana e per quanto riguarda la primaria di Sant'Antonio di Tortale. A dire il vero sulla scuola materna di Sant'Antonio di Tortale stiamo facendo dei piccoli interventi, delle rampi di accesso e miglioriamo in qualche modo l'accessibilità in maniera tale da tenere separata il nido dalla scuola materna. Altro cantiere molto importante l'abbiamo nel capoluogo di Mell dove è in corso la demolizione delle scuole medie perché ovviamente non c'erano più le condizioni di sicurezza sismica per poterle mantenere aperte e operative e perché c'è quel progetto di scuola innovativa di cui ne abbiamo già parlato in precedenti trasmissioni. A fronte di questo cantiere e a fronte all'indisponibilità della scuola media, le sei classi della scuola media troveranno spazio all'interno dell'attuale scuola primaria Giovanni D'Amello assieme alle cinque classi della scuola primaria a tempo pieno, mentre le cinque classi della scuola primaria a tempo normale saranno trasferite nella scuola di Villa di Villa che è oggetto di restyling proprio in queste settimane per essere il più accogliente possibile per l'inizio dell'anno scolastico. Ovviamente saranno garantite delle navette da Mel a Villa di Villa che saranno gratuite per i genitori che ne faranno in qualche modo uso e richiesta. Le medie saranno posizionate al piano terra, mentre le primarie al primo piano per quanto riguarda la scuola primaria Dante Alghieri, non Giovanni D'Amello di Mel. Prossimamente saranno oggetto di intervento anche le scuole di Villa Piana, abbiamo infatti ottenuto il finanziamento da 750 mila euro, ma probabilmente riusciremo a finire l'anno scolastico e quindi a cantierare i lavori per la prossima estate. Successivamente dovremo mettere mano anche alle scuole di Lentiai. Per quanto riguarda Villa Piana e le scuole di Lentiai sono in corso due importanti progettazioni che abbiamo ottenuto un finanziamento da 130 mila euro e per quanto riguarda la dislocazione delle classi per la scuola di Lentiai, vista la tematica Covid, vista la necessità di decongestionare l'attuale scuola Cesare Vecellio, utilizzeremo anche il primo piano, anche il piano terra del centro polifunzionale di Lentiai per trasferire tre delle attuali cinque classi medie. Quindi vediamo appunto come l'emergenza ci impone di trovare soluzioni alternative in modo da riuscire a garantire la sicurezza comunque ai bambini. Vediamo appunto, sono tanti i lavori che ci ha elencato, lavori possibili anche grazie all'avanzo di bilancio che c'è stato. Sì, l'avanzo di bilancio che abbiamo provato ai primi del mese di agosto, che dimostra sostanzialmente un bilancio molto sano del nostro comune e che dimostra anche un'altra cosa, il valore molto importante del progetto di fusione dei tre comuni. Abbiamo un avanzo di 1.500.000 euro che sono stati in qualche modo già quasi totalmente impiegate nelle nuove opere pubbliche, 300.000 euro sono gli interventi che facciamo di adeguamento delle scuole, anzi 380.000 euro interventi nelle scuole per adeguarle al tema Covid e quindi anche con l'acquisto di eventuali arredi che si dovessero rendere necessari. Altri 300.000 euro li desideriamo investire nella struttura del parcolotto di Tricchiana, proprio per poterla dotare di quelle strutture e di un'altra struttura coperta per essere attraente e quindi per poter in qualche modo anche dare delle disponibilità di spazio per l'esercizio della pratica sportiva. Abbiamo 500.000 euro investiti nell'ambito del territorio per manutenzione di strade e per l'asfaltatura di nuove strade e altri soldi che ovviamente vengono in qualche modo impiegati in quella che è gli investimenti che erano previsti in fase di bilancio previsionale. Senta Sindaco, andiamo un po' veloci perché il tempo sta per finire. Capitolo rifiuti, gestione appunto e novità per l'autunno? Novità importante per l'autunno per quanto riguarda il territorio degli istinti comuni di Lentiai e di Mel, in quanto dai primi di ottobre non avremo più la collaborazione dell'Unione Montana-Valbelluna per l'appalto e l'arcolta smeltimento di rifiuti, ma entrerà e omogenizzerà il suo servizio la Bellunum, società di cui il comune di Borgo e Valbelluna è socio e che sta svolgendo già il servizio nell'ambito dell'istinto comune di Tricchiana. Quindi avremo la sostituzione, non ci saranno grossi sconvolgimenti per le persone, ci sarà la sostituzione delle campane, della carta e del vetro, mentre proseguirà il servizio di raccolta porta a porta dell'indifferenziato. Successivamente ci sarà poi la volontà di omogenizzare le tariffe sull'intero comune di Borgo e Valbelluna, cosa che non siamo riusciti a fare quest'anno, ma che lo faremo sicuramente il prossimo anno e che ci sarà un metodo unico di conteggio della tariffa che è basato ovviamente sugli svoltamenti del secco e probabilmente anche quelli dell'umido. Senta Sindaco, non abbiamo il tempo di parlare del turismo, però un'ultima battuta la dedicherei invece alla cultura perché c'è un importante appuntamento alle porte. La cultura è il punto fondamentale su cui noi desideriamo fondare il nuovo comune di Borgo e Valbelluna perché vogliamo che l'identità scaturisca dalla cultura ed è questo il motivo per cui stiamo facendo tante manifestazioni di carattere culturale, il quale hanno l'obiettivo di arrivare all'inizio della prima settimana di settembre dove ci sarà il trentennale del premio letterario Tricchiana Paese del Libro e dove avremo la possibilità di avere Tiziano Scarpa, noto scrittore, che è presidente della giuria e dove abbiamo avuto un successo straordinario con l'arrivo di 240 racconti e quindi abbiamo in questi mesi, in queste settimane, la giuria che è molto impegnata per la selezione di quelli che saranno i racconti vincitori. Grazie Sindaco Stefano Cesa, grazie per essere stato qui con noi, buon lavoro a lei e a tutto il suo staff e ci ritroveremo prossimamente appunto per vedere anche tutte le altre iniziative. Grazie a Telebeluno, grazie all'opportunità che ci dà di fare informazione ai nostri cittadini e buonasera a tutti i nostri telespettatori. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci! Grazie a tutti!